22 gennaio 1944 è notte, sulle coste del litorale laziale ha inizio l'operazione Shingon il sesto corpo da sbarco USA comandato dal maggiore generale John Lucas sbarca nel porto di Anzio l'attacco ha lo scopo di prendere alle spalle le truppe tedesche attestate sulla linea Gustav e conquistare Roma l'obiettivo sarà raggiunto solo 5 mesi dopo